buon di buona gente sono luigi in arte lusio anzi professor lusio e benvenuti a questa nuova video lezione vi chiedo già scusa in anticipo per questo ritardo però queste settimane sono state abbastanza piene e vi avviso già che prossimamente probabilmente i video cambieranno di orario probabilmente non arriveranno più il pomeriggio ma arriveranno più forse verso la prima fascia della giornata perché a setti tra poco dovrei iniziare a lavorare e dal momento che devo spostarmi a poggio marino con i mezzi pubblici non avendo la macchina quindi mi ci vuole una bella sfacchinata in treno diciamo che il pomeriggio per me sarà strapieno quindi quindi probabilmente i video proverano inizierò a postarli più verso la mattina che verso il pomeriggio e a parte questo io vi invito come al solito ad iscrivervi al mio canale prima di iniziare e se avete delle richieste per o dei suggerimenti per future video lezioni vi invito sempre a lasciar meglio nei commenti oppure nei miei social sono molto attivo su instagram ma sono anche presente su facebook quindi mi trovate un po dovunque vi ricordo sempre però che ho bisogno dei miei tempi per prepararmi una le mie video lezioni quindi vi chiedo solo di avere un po di pazienza ma tanto io il mio elenco ce l'ho è in continua espansione e a mano a mano riuscirò a fare tutto ve lo posso garantire e iniziamo allora non vedevo l'ora di iniziare questa video lezione sono stato molto in ansia soprattutto per quanto riguardava la stesura dello script ci ho impiegato un sacco di tempo proprio perché volevo essere sicuro che venisse il meglio che potevo perché allora perché ritorniamo su un argomento che per me è proprio mi sta a cuore quello che vorrei fare oggi è un ritorno alle origini un provare a riprendere in mano qualcosa e riproporlo in una veste migliorata ormai voi che mi seguite che siete iscritti al mio canale mettete mi raccomando seguite iscrivetevi tutti quanti me cliccate sulla campanella per avere gli avvisi allora ormai mi conoscete principalmente per le mie video lezioni di storia e di cultura generale ma ai miei inizi stiamo parlando ormai di ormai sono tre anni mi sa sì già tre anni ecco ai miei inizi io ero un aspirante booktuber uno di quelli che a lungo andare spera di arrivare a fare collaborazioni con le case editrici a lasciare i link amazon in cui ottengo qualcosa in più se voi ci cliccate sopra e per la e se acquistate eccetera vabbè stiamo parlando proprio del 2000 credici niente di tutto questo sia avverato non ancora però ci stiamo lavorando di conseguenza tutti i miei video però all'epoca avevano come punto centrale i libri e anche le mie primissime video lezioni che mi hanno lanciato in origine non avevano questo formato divulgativo e narrativo che io gli ho dato ma si basavano sulla mia esposizione di libri che avevano come argomento determinati personaggi storici erano quindi più il video a tematica bibliografica e anche filmografica visto che poi già allora trattavo di cultura generale questo metodo è durato circa tre video eh sì tre video con tre argomenti dal quarto in poi mi sono dedicato poi a raccontare le storie in sé per sé arriviamo quindi alle mie primissime video lezioni con il format che conoscete tutti quanti voi la prima è stata sicuramente lo scandalo della collana di diamanti poi a seguire ci sono stati Gilles Deray la vera storia di Pocahontas Giovanna la Beltranera e Ergeveth Bathory la Contessa Dracula che fu la prima video lezione su richiesta se volete recuperarli basta che andate nella playlist apposita a caso mai ve la lascio linkata qui nel pallino magico qualora voleste vedere il vostro professor Lusio come muoveva i suoi primi passi però mi è sempre rimasto il rimpianto di non essere riuscito a fare delle video lezioni così ben impostate per quei primissimi tre personaggi considerando anche che due di loro sono tra i miei personaggi preferiti sì sto parlando di Giovanna d'Arco Maria Antonietta e anche la monaca di Monza il fatto però è che non vorrei limitarmi ad una narrazione classica anche alla luce del fatto che ho avuto modo di parlare di figure come quella di Giovanna d'Arco e soprattutto di Maria Antonietta in chiave sparsa in altri video sia per quanto riguardava libri sia per quanto riguardava personaggi vicini alla loro storia e ridurmi a fare quindi non mi andava di riprendere in mano questi personaggi facendo un semplice elenco della loro storia quindi ho pensato di personalizzarle e voglio iniziare proprio da quella che è la mia beniamina Giovanna d'Arco già vi anticipo che questo sarà il primo di tre video il primo questo qui sarà una sorta di retrospettiva sulla sua figura storica il secondo sarà una video lezione su una storia collegata a Giovanna d'Arco e il terzo sarà un video chiacchiericcio sulla rappresentazione di Giovanna d'Arco negli anime nei manga e nei videogiochi nipponici ho raccolto un bel po di materiale negli ultimi anni quindi spero che possa interessarvi l'argomento se siete appassionati di manga e di anime e cominciamo quindi con la storia di Giovanna d'Arco o meglio i misteri di Giovanna d'Arco perché la sua intera e brevissima vita la si può definire un mistero un mistero che ha fatto sudare storici credenti atei psicologi uomini e donne che hanno cercato da una parte di spiegare come sia stato possibile che una ragazzina di soli 17 anni sia stata in grado di capovolgere le sorti di un conflitto che andava avanti da quasi un secolo ovvero la guerra dei cent'anni che vedeva contrapposti inglesi e francesi per il dominio della Francia sulla quale gli inglesi vantavano diritti dinastici rivendicati nel 1336 da Edoardo III d'Inghilterra nipote di Filippo IV di Francia. Prima di immergerci nel pieno di questi misteri credo sia doveroso dare uno sguardo al periodo in cui Giovanna nacque visse e morì un medioevo che mi verrebbe da definire magico un medioevo di base cattolico ma che in alcune frange non solo quelle contadine ma anche quelle più altolocate è colorito da aspetti folcloristici e fiabeschi quasi retaggio di un passato pagano che è rimasto in maniera sotterranea nel substrato sociale. Già solo la nascita di Giovanna d'Arco ha finito per rientrare in questo alveo fantastico. Noi non conosciamo il giorno e il mese precisi in cui nacque, sappiamo solo che nacque nel 1412 nel piccolo villaggio di Remì. Successivamente dopo la sua morte e dopo la riabilitazione della sua figura quando siamo in piena campagna geografica venne inventata questa fiaba della sua nascita o meglio della sua natività. Secondo questa storia Giovanna sarebbe nata la notte dell'Epifania che ricorda la visita dei magi a Gesù Bambino e secondo questa storia al momento della nascita di Giovanna sarebbe avvenuto un fatto straordinario. Tutti i lumi di tutte le case si sarebbero accesi da soli e avrebbero fatto una luce tale da rendere la notte giorno e facendo cantare i galli come se fosse stata l'alba. E qui questo non può non venire in mente, non mi ha fatto venire in mente una canzone che tutti quanti voi conoscerete come Tu scendi dalle stelle ma che in realtà in origine e anche come la conosco io è una canzone in dialetto napoletano scritta a metà del Settecento da Alfonso Maria De Liguori e proprio questa canzone che ricorda la nascita di Gesù Bambino canta, non ve la canto perché sono stonato. Quando nascette Nin a Bethlehem era notte e pareva Mieziworn. Quando nacque il bambino a Bethlehem era notte e sembrava mezzogiorno, proprio per ricordare la lucentezza delle stelle di quella notte nella tradizione cattolica. Come ho detto questa qua è una leggenda ageografica nata a posteriori ma ci fa capire quanto ancora a quest'epoca sia animata da questo spirito di religiosità cristiana che si accompagna a credi fiabeschi che sapevano ancora di paganesimo. Elementi che troviamo anche nell'infanzia di Giovanna dove a spiccare per particolarità sono i balli attorno all'albero delle fate, un faggio secolare dove si diceva che si potessero vedere le fate. Durante il mese di maggio gli abitanti di Dom Remy si radunavano attorno a questo albero delle fate e festeggiavano l'inizio della bella stagione e le bambine e le fanciulle del villaggio ballavano attorno all'albero dopo essersi incoronate con le foglie dell'albero stesso. Sicuramente anche Giovanna da bambina si ritrovò con le altre fanciulle del villaggio, con sua sorella Caterine, con le sue amiche, a ballare spensieratamente attorno all'albero delle fate senza quella malizia demoniaca che avrebbero cercato di riversarle addosso i giudici durante il suo processo anni dopo. Era la comune vita di un comunissimo villaggio del Quattrocento, uno scenario che variava poco o niente da quel piccolo universo popolare. Sappiamo che persino una sua zia, una zia di Giovanna, venne inquisita per sospetta stregoneria perché era riconosciuta come un'esperta guaritrice, oggi la definiremo una erborista, ma venne riconosciuta innocente. Questo è un elemento apparentemente insignificante, ma in realtà ci fa capire quanto fosse, non dico normale, ma quantomeno comune in quel contesto una convivenza tra credenze vecchie e nuove. Attenzione, questo non deve portarci a credere che Giovanna non fosse una devota cristiana, anzi tutt'altro. Tutti coloro che la conobbero tra parenti e amici furono tutti concordi nell'assegnarle una devozione cristiana molto forte e intensa. Pur con tutto il contesto attorno a cui nacquero queste testimonianze che volevano rendere Giovanna una santa già in vita, possiamo prenderle per vere, anche perché abbiamo testimonianze ulteriori su questo aspetto della sua persona. Un altro elemento caratteristico di questo medioevo magico è il tema delle profezie. E' proprio una profezia sta alla base dell'avventura terrena di Giovanna d'Arco, la cosiddetta profezia di Merlino. Sì, lo stesso mago Merlino delle leggende di Re Artù. Secondo questa profezia una vergine sarebbe uscita dai boschi della Lorena e avrebbe restituito la Francia ai francesi scacciando gli inglesi. Questo aspetto magico però è in realtà un elemento letterario divenuto voce popolare. Infatti le profezie di Merlino erano non una raccolta di profezie ma bensì una raccolta di racconti scritti da Goffredo di Monmouth, già autore della vita di Merlino e della historia Regum Britanniae. Ebbene, questa raccolta ebbe un così grande successo popolare da iniziare ben presto a circolare in forma orale sia in Inghilterra che in Francia, con tutte le varianti e gli adattamenti che ne derivavano da una simile divulgazione. E' molto probabile che la profezia della Vergine di Lorena aveva iniziato a prendere piede già da un po' di tempo prima che Giovanna decidesse di lasciare il suo paese natio e la sua famiglia per iniziare la sua impresa, spinta dalle voci celesti che diceva di sentire da quando aveva 13 anni. E dal momento che ho tirato subito in ballo la questione della fede, del credo e del non credo, dello spirituale, del razionale, vorrei passare al mistero più famoso, più noto, sicuramente il più importante nella storia di Giovanna d'Arco. Il mistero delle voci, delle voci che sentiva, le voci che sono stati il motore di tutte le sue azioni. Giovanna avrebbe raccontato in seguito che le voci che la guidavano, che la invitavano a pregare fino a quando era piccola e che all'età di 17 anni la esortarono a lasciare la casa natia e ad andare da Carlo, il delfino di Francia, erano le voci di Santa Caterina d'Alessandria, di Santa Margherita di Antiochia e dell'Arcangelo Michele. Santi non scelti a caso. Santa Caterina e Santa Margherita erano due sante molto venerate nella piccola chiesa di Dom Rémy e l'Arcangelo Michele era visto come una possibile risposta francese a San Giorgio, il santo patrono guerriero degli inglesi, anche per il fatto che Mont Saint-Michel in Normandia era uno dei luoghi che più resisteva strenuamente all'assedio degli inglesi, che non riuscirono mai ad espugnarlo, complici anche le maree per cui è famoso Mont Saint-Michel ancora oggi. Quella delle voci è una questione che ha fatto sudare generazioni di studiosi e ancora oggi non è riuscito a trovare una risoluzione capace di mettere tutti d'accordo e credo che ciò non avverrà mai di base. Ora, senza scendere troppo nei dettagli della fede o dell'ateismo perché quello che ci interessa è come era Giovanna d'Arco come persona vi esporrò in breve le teorie più accreditate per questo mistero, permettendo che non tutti i misteri hanno risposte e risoluzioni. La prima è più classica e tradizionale ed è che quelle che Giovanna sentiva erano davvero delle voci celeste appartenenti a dei santi. Una risposta a questa teoria è quella psicoanalitica che vuole che Giovanna fosse affetta da una patologia mentale come la schizofrenia oppure da una malattia più fisica come una malattia che molti hanno ipotizzato trattarsi di tubercolosi di tipo cerebrale che le procurava degli stati allucinatori. Questa tesi però va a cozzare con la personalità di Giovanna che, a detta di chi la conobbe, non mostrò mai segni di alienazione mentale né segni di qualche malattia. Quindi va ad inserirsi un'altra teoria, ovvero che le voci che sentiva non erano celesti ma terrene. Secondo questa teoria, le voci che guidavano e consigliavano Giovanna sarebbero state le voci di un gruppo di religiosi che le fungeva da padri spirituali e da madri spirituali. C'è da dire che i nomi dei religiosi potevano ricalcare, come fanno ancora oggi, i nomi dei santi, per cui una suora poteva chiamarsi suor Maria di Santa Caterina d'Alessandria per intenderci. Rimarrebbe un'altra domanda. Perché un gruppo di religiosi avrebbe assoldato una fanciulla di umili origini affinché andasse dal delfino di Francia dicendosi disposta a mettersi alla testa delle sue truppe e liberare la Francia dagli inglesi? La risposta risiederebbe in un complesso ed elaborato piano per risollevare le sorti della Francia facendo leva proprio su questo substrato folcloristico infarcito di profezie che tutti erano in attesa che si avverassero. Non per niente vi ho accennato alla profezia della Vergine della Lorena e ho voluto fare tutto il mio preambolo sul substrato fantasioso e popolaresco dell'epoca. Ma un simile scenario presupporrebbe una preparazione e una pianificazione partita non da Domremy ma dalla stessa corte dei Valois. Ma con questo mistero mi fermo qui perché c'è tanto da dire e credo che su questa storia riserverò un video apposito per cui ci fermiamo qui per ora. Ci vediamo dopo. Un'ultima aspirazione, quella che forse ci fa avvicinare maggiormente alla personalità di Giovanna per come ci è stata tramandata, è quella che si collega ad una voce interiore. Abbiamo tutti le nostre voci interiori però che possiamo chiamarle come preferiamo, possiamo chiamarle ispirazioni, possiamo definirla una voce che nasce dal nostro vissuto, dai nostri traumi e che quando abbiamo la capacità e la possibilità di prendere in mano la nostra vita e agire in prima persona prende il sopravvento e ci guida. Giovanna visse in un contesto in cui, in quanto donna, non aveva la possibilità di prendere in mano la sua vita. Quale forza allora? Quale voce le diede la forza di lasciare la casa paterna? Cosa la spinse a lasciare la sua vita e gettarsi nel pieno della guerra, col rischio di morire sotto i colpi dei nemici, come pure rischiò più volte che accadesse, come quando venne ferita da una freccia durante la sua prima battaglia a Orlean? Ebbene, se posso rubare le parole a Michelangelo Rossato, un artista e uno scrittore che ha dedicato a Giovanna d'Arco una sua opera bellissima, Il cuore di Giovanna d'Arco, alla quale ho dedicato una recensione a parte che vi lascio linkata qui se volete recuperarla, oltre all'invito a recuperare proprio questo bellissimo libro. Ebbene, se posso rubare le parole, le interpretazioni di Michelangelo Rossato, io ecco qua, l'ho trovata proprio adesso, a colpo sicuro. Giovanna probabilmente venne spinta ad agire dal suo desiderio di porre fine alla guerra che stava dilaniando il suo paese e soprattutto per dare un futuro migliore a quelli che da sempre, dalle origini dei tempi fino ai giorni nostri, sono le prime vittime delle guerre, ovvero i bambini. Vi voglio mostrare questa illustrazione che è la mia preferita. Ecco, questa secondo me riassume perfettamente ciò che ha fatto Giovanna è ciò che l'ha spinta. L'ha spinta il suo voler salvare i bambini, il suo voler salvare le nuove generazioni dalla guerra. Mi spiego meglio. Come ho detto, le prime vittime della guerra sono appunto i bambini. Lo abbiamo visto e lo vediamo tutt'oggi, basta vedere quanto sta avvenendo in Afghanistan, basta solo vedere questo. Giovanna, per tutti i suoi primi 17 anni di vita, visse nel pieno della guerra. Dom Remy era stato soggetto più volte agli assalti e alle incursioni degli inglesi o dei borgognoni, i loro alleati, tanto che i suoi abitanti furono spinti più volte a scappare e a cercare rifugio in villaggi vicini o nel centro fortificato di Neuf Chateau. E quando non fu Giovanna stessa, con la sua famiglia, a scappare dalle truppe di soldati, deliti alle violenze e alle razzie? Ebbene, fu Giovanna stessa, fu lei stessa testimone del dramma degli abitanti di altri villaggi assaliti e dati alle fiamme. Che che se ne pensi oggi? Giovanna non era una semplice pastorella, figlia di contadini, anzi suo padre Jacques era quello che oggi potremmo definire il sindaco di Dom Remy, il borgomastro di Dom Remy e sua madre Isabelle Romè era quasi un'autorità nell'ambito religioso del piccolo paese di Dom Remy, essendo stata in passato una pellegrina che aveva avuto la possibilità di andare addirittura in pellegrinaggio a Roma dal papa. Possiamo dire quindi che la famiglia di Giovanna era agiata nei limiti del contesto contadino di Dom Remy. Vista quindi l'alta carica del padre, Giovanna doveva essere stata testimone in prima persona e anche una partecipante attiva nel prestare aiuto e sostegno agli esuli dei villaggi presi d'assalto dai soldati. Di conseguenza doveva aver visto e toccato con mano i segni della violenza della guerra sui volti dei bambini. Forse, se vogliamo essere un po' più umani o anche più romantici, le voci che spronarono Giovanna ad intraprendere la sua impresa furono proprio le voci dei bambini che, come lei, erano vittime della guerra, alle quali poi si unirono anche le voci dei bambini ancora non nati e che quasi sicuramente avrebbero ereditato quel mondo dilaniato dalla guerra e dal dolore. Quel mondo in cui erano i ricchi e i potenti che decidevano se fare o meno guerra, ma che intanto la guerra non la vivevano perché se ne stavano chiusi nelle loro roccaforti e a pagare le spese erano i poveri, era il popolo, i poveri, gli uomini che venivano uccisi, le donne che venivano violentate, i bambini che venivano uccisi o lasciati orfani di entrambi i genitori e senza mezzi per vivere. Ecco, probabilmente le voci che Giovanna sentiva erano appunto queste invocazioni di aiuto, i pianti di questi bambini. Così Giovanna, seguendo le voci che la guidavano, fossero esse di natura terrena, celestiale o inconscia, abbandonò la sua vecchia vita e, grazie all'aiuto e al sostegno di Robert de Baudricourt, capitano della piazzaforte di Vauculer, indossando abiti maschili e con i capelli tagliati alla paggio, ovvero al di sopra delle orecchie, riuscì ad arrivare a Chinon e ad incontrare Carlo, il legittimo erede al trono di Francia. Quasi tutti conoscono il miracolo del riconoscimento, ovvero il modo in cui Giovanna riconobbe Carlo travestito e nascosto in mezzo alla folla dei suoi cortigiani, un piccolo inganno atto a sondare la sincerità o la malafede della ragazza. Anche questo episodio può essere letto sotto l'ottica della fede, della fede che vede in esso un miracolo o sotto l'ottica dello scetticismo che ci vede dietro un inganno ben orchestrato per costruire al meglio l'immagine propagandistica di Giovanna alla pulzella, come sarebbe stata chiamata da allora in poi. Fatto sta che Giovanna riuscì a conquistare la fiducia del delfino e dei suoi sostenitori, ma iniziò anche ad allarmare coloro che tendevano a remare contro Carlo, che propendevano a mantenere la Francia in uno stato di eterna belligeranza perché avevano molto da guadagnarci tra accordi per tregue o cedimenti terrieri con gli inglesi e soprattutto con i borgognoni, e proprio questo secondo schieramento di cortigiani avrebbe segnato la fine di Giovanna. Ma ci arriveremo. Giovanna quindi indossò alla fine la bianca armatura con la quale siamo tutti abituati a vederla, armata solo di uno stendardo, dove erano ricamati i nomi di Gesù e di Maria, di una spada che non avrebbe mai usato e armata della sua fede ferrea del suo patriottismo. E qui c'è un altro mistero, forse il più semplice da risolvere, il mistero delle sue vittorie. Con l'entrata in scena di Giovanna d'Arco, sullo scenario della guerra dei cent'anni, le sorti dei due schieramenti si capovolsero. I francesi, da sempre sconfitti, riacquistarono nuovo vigore e fiducia, mentre gli inglesi, da tempo credutisi ormai vittoriosi, si videro sconfitti in poco tempo da un esercito che non aveva più nulla da perdere, e per di più era guidato da una fanciulla armata solo di uno stendardo dai motivi sacri. Nuova grinta e una speranza accresciuta da parte dei francesi, un contropiede inaspettato, ma anche varie divisioni interne, problemi all'interno della reggenza inglese, anche diciamo una stanchezza continua da parte degli inglesi. Forse fu questa commistione di eventi a portare alla vittoria l'esercito francese guidato da Giovanna La Pulsella, che più che una condottiera fu una sorta di mascotte, un'ispirazione e una carica continua per i soldati, che non aspettavano altro che un incentivo per risollevarsi. L'apporto che lei diede alla guerra fu questo, e non avrebbe potuto darne altro dal momento che non aveva alcuna competenza in materia bellica, anche perché poi c'erano già altri comandanti generali e soldati molto più esperti e ferrati di lei in questioni belliche. In particolare, per citare i più noti tra i suoi compagni d'arme, c'erano Etienne de Vignoy, detto l'Aïr, per il suo carattere iroso, poi c'erano Jean de Noix, detto il bastardo d'Orléans per la sua nascita illegittima, il duca Jean d'Alençon, detto le be-duque, il bel duca, e il maresciallo di Francia Gilles de Ré, detto barbe bleu, barba blu, che in seguito diventerà noto più per i suoi crimini che per le sue imprese militari, e anche a lui ho dedicato già una video-lezione a parte. Si può dire che Giovanna fu la motivatrice giusta al momento giusto per le sorti della Francia, fu lei la vera trionfatrice di quei mesi. Sotto il suo stendardo i francesi ripresero Orléans, uno dei punti fondamentali per spianare la strada verso la città di Reims, dove Carlo sarebbe potuto venire incoronato in maniera legittima e ufficiale. Alla vittoria di Orléans seguirono altre vittorie in altre battaglie, tutte atte a liberare la via, a spianare la strada verso Reims. Si era dell'idea politicamente esatta che l'incoronazione ufficiale di Carlo avrebbe indebolito le pretese dinastiche degli inglesi sulla Francia, per cui l'incoronazione di Carlo era la priorità in quel frangente. A seguire, almeno nelle intenzioni di Giovanna e degli altri comandanti, si sarebbe passato a liberare tutti gli altri principali territori francesi tenuti da assedio dagli inglesi, in modo così da liberare l'intera nazione e porre definitivamente fine alla guerra e alla dominazione inglese. Purtroppo le cose non andarono come Giovanna e gli altri speravano. Dopo l'incoronazione Carlo si lasciò andare agli ozzi della vittoria, come si sol dire si mise a dormire sugli allori. Il problema di Carlo, adesso incoronato ufficialmente Carlo VII, è che almeno in questa prima fase del suo regno ufficiale non era quello che si può definire il sovrano duro e dalle pronte decisioni che sarebbe dovuto essere in quel momento storico così delicato per il suo regno. Ed era fin troppo manipolabile da buona parte di quella fetta di cortigiani che, invogliandolo nella sua pigrizia edonista, ne approfittavano per ritornare a maneggiare con i borgognoni e con gli inglesi instaurando trattative di tregua che servirono solo a consentire il riarmo dei nemici. Gli stessi cortigiani che a questo punto, questi erano gli stessi cortigiani che a questo punto tentavano di tenere Giovanna il più lontana possibile dalla sfera di Carlo. Da una parte Giovanna avrebbe anche voluto far ritorno al suo villaggio nativo, dalla sua famiglia, ma dall'altra sentiva che la sua missione non era ancora terminata. Purtroppo nel mentre gli inglesi si erano strategicamente riaggiornati, così nelle successive battaglie i francesi vennero sconfitti. La sconfitta più clamorosa fu sicuramente quella di Parigi. La capitale era ancora tenuta sotto il dominio nemico, ma i francesi non riuscivano a salvare la capitale. Questa sconfitta alienò a Giovanna anche buona parte dei suoi sostenitori a corte, che iniziarono a vederla con un certo fastidio, non tanto per la sua estrazione sociale, ma per quel suo patriottismo che stonava troppo con la vita gaudente della corte e dei grandi di Francia. A questo punto allora Carlo decise di tagliare direttamente le gambe a Giovanna, sciolse definitivamente l'esercito e impose a Giovanna di riporre spada e armatura e lasciare agire i diplomatici che avrebbero cercato di trovare accordi di pace con i nemici. Per tentare di tapparle la bocca, Carlo concesse addirittura un titolo nobiliare a lei e alla sua famiglia, titolo che si sarebbe potuto ereditare anche per linea femminile e esonerò il villaggio di Domremy dalle tasse per sempre, cosa che sarebbe rimasta in vigore fino al 600, non vorrei sbagliare. Ma Giovanna non aveva alcuna propensione per i giochi di potere e soprattutto non era fatta per lasciarsi, non era tipo da lasciarsi corrompere come una dei tanti cortigiani che pullulavano attorno al re e finì per disobbedire agli ordini del re, che la voleva zitta e buona al posto che l'era stato costruito a corte, come una statuina chiusa in una chiusa chiave dentro una teca. A questo giro le voci che la spinsero a proseguire furono quelli degli abitanti delle città tenute ancora sotto lo scacco degli inglesi e dei borgognoni, che, vistisi ignorati da Carlo, si erano rivolti a Giovanna, sempre pronta a raccogliere le richieste d'aiuto dei dimenticati, il popolo, stavolta accompagnata dalla consapevolezza di essere da sola e che sicuramente non ne sarebbe uscita vittoriosa e che la sua fine sarebbe stata prossima, nel momento in cui fosse stata fatta prigioniera dai nemici, come alla fine purtroppo accadde. A Compienne, durante un assedio, Giovanna venne catturata dai borgognoni. Era il 23 maggio del 1430. La sua impresa era durata un solo anno, eppure Giovanna era riuscita a fare tantissimo e quel suo anno di attività avrebbe in seguito generato dei frutti che avrebbero contribuito alla fine della guerra e alla definitiva vittoria francese. Ma questo sarebbe avvenuto anni dopo, nel mentre Giovanna venne tenuta sotto la custodia di Giovanni di Lussemburgo, affiliato a Filippo III di Borgogna e vassallo degli inglesi. Durante questa prigionia, Giovanna venne trattata con ogni riguardo grazie anche all'intercessione delle donne della famiglia, la moglie, la figlia e la zia di Giovanni di Lussemburgo, tutte e tre guarda caso di nome Giovanna. Le tre dame presero così tanto a cuore la sicurezza di Giovanna che si opposero fermamente affinché Giovanni la vendesse agli inglesi, come era sua intenzione, ben sapendo cosa le sarebbe accaduto in quell'evenienza. Purtroppo, alla morte della zia, l'anziana Giovanna di Lussemburgo, Giovanni scavalcò la moglie e la figlia e vendette Giovanna agli inglesi, rappresentati da Pierre Cochon, vescovo di Beauvais. In tutto questo Carlo VII non fece niente per riscattare e salvare Giovanna. Non sappiamo per quale motivo. Secondo alcuni Carlo avrebbe tentato segretamente di liberare Giovanna, ma non abbiamo prove di un simile tentativo. Inizia qui l'ultimo atto della breve storia di Giovanna d'Arco, l'ultimo mistero, il mistero della sua morte. Finita tra le grinfie degli inglesi, Giovanna non poteva sperare di cavarsela facilmente, soprattutto quando venne imbastito un processo contro di lei con l'accusa di eresia e stregoneria. Ora, sappiamo tutti per cosa sono famosi gli inglesi. Guarda caso lo abbiamo visto proprio quest'anno agli europei di calcio. Ebbene, gli inglesi non sanno perdere, ma proprio per niente. Ovvio che per loro non era possibile, non era concepibile venire sconfitti da un esercito guidato da una ragazzina. Doveva essere per forza tutto dovuto alla stregoneria. Era l'unica aspirazione possibile, per carità. Aggiungiamoci il fatto che Giovanna indossava abiti maschili e che pretendeva di essere in diretto contatto con Dio attraverso le sue voci ed era bella e servita un'accusa di eresia e blasfemia. Con tutto che non venne tenuto in considerazione un aspetto proprio basilare del fatto che lei vestisse abiti maschili. E lei lo fece notare al processo. Lo disse chiaramente. Se si vestiva in abiti maschili era per proteggere appunto la sua virtù, stando in mezzo a tanti uomini e soldati, insomma. Era l'unico modo che aveva per difendere la sua virtù, per difendersi, cosa che non le sarebbe stato possibile indossando abiti femminili, che l'avrebbero resa molto più vulnerabile. Comunque, Giovanna venne condotta a Rouen, dove una schiera di ecclesiastici capeggiati dal vescovo Coshon si prepararono a processarla. Manco a dire che dietro questo processo e dietro buona parte di quegli ecclesiastici c'erano gli inglesi, che premevano affinché Giovanna venisse condannata a Rouen come strega. Ora, mi raccomando, seguitemi bene perché la parte del processo di Giovanna è molto complessa. Allora, partiamo dal fatto che si trattò di un processo politico camuffato da processo religioso, tenendo anche in conto il fatto che, per chi lo gestiva, la sentenza era già scritta. Più che un processo, quella era una farsa bella e buona, ma a prescindere da questi aspetti non c'erano i presupposti perché quel processo religioso si tenesse, dal momento che Giovanna era già stata esaminata a suo tempo da dotti ed ecclesiastici e da dottori della chiesa, quando si presentò a Carlo all'inizio della sua missione. In quel frangente era necessario esaminare Giovanna sotto il profilo religioso, viste le sue visioni e il suo modo di agire poco ortodosso per una cristiana. All'epoca fu riconosciuta come una buona figlia della chiesa, quindi venne dato credito alle sue voci, alla legittimità delle sue azioni, ma bisogna dirlo, già in quella circostanza quell'esame fu pilotato dalle necessità del momento. In quel frangente Giovanna doveva essere legittimata nel suo operato. Anche quella era stata un'azione politica, perché comunque anche se mossa da azioni religiose, il tutto era finalizzato a un'azione politica atta a mettere sul trono ufficialmente Carlo VII, il cui il tutto quindi doveva avvenire col beneplacito del Signore. Stessa cosa questo processo che era a sua volta politico. Con la condanna di Giovanna, in quanto strega ed eretica, si sarebbero delegittimate tutte le sue azioni terrene, compreso il suo aver spianato la strada verso il trono a Carlo VII, che di conseguenza sarebbe stato delegittimato. Il processo di revisione che si sarebbe tenuto 25 anni dopo e che la riabilitò completamente, sì, ma anche quello fu un processo mosso da intenti politici. Atto più che a riabilitare la memoria di Giovanna era necessario a ripulire l'immagine di Carlo, che con la condanna della ragazza era stato colpito trasversalmente dall'accusa di impietà. Il processo a Giovanna d'Arco è uno dei più completi e documentati che siano giunti fino ai giorni nostri e ancora non smette di stupire chi si ritrova a leggerne gli atti, soprattutto le risposte che Giovanna diede ai suoi giudici, che più e più volte tentarono di intrappolarla, di coglierla in fallo con domande infide. Basti pensare a quella più famosa quando i suoi giudici le chiesero Giovanna sei tu in grazia di Dio? Era una domanda molto infida, molto scivolosa e in qualunque modo Giovanna avesse risposto avrebbe rischiato comunque di venire condannata perché se avesse risposto sì sono in grazia di Dio avrebbero potuto accusarla di arroganza perché non avrebbe potuto dire con certezza di essere in grazia di Dio, oppure se avesse detto no non sono in grazia di Dio, quella allora sarebbe stata una missione di colpevolezza. E la risposta di Giovanna quale fu? La risposta di Giovanna fu un esempio di equilibrio incredibile. Lei rispose se sono in grazia di Dio che Dio mi ci mantenga, se non ci sono Dio mi ci metta. Non c'era proprio nulla da ridire, ecco. E proprio le risposte che Giovanna diede, proprio queste risposte stonano anche col fatto che di base Giovanna fosse una ragazza analfabeta, senza istruzione, sveglia e intelligente e sagace sì, però non poteva avere tutta questa preparazione. Non sappiamo quanto in queste risposte ci fosse di Giovanna e del suo carattere notoriamente vispo e a volte sagace e quanto ci fosse anche dei frati dominicani che la consigliavano facendo segretamente le funzioni di consiglieri dal momento che Giovanna in questo processo non aveva diritto né ad un avvocato difensore né tantomeno ad avere testimoni in sua difesa. Comunque che quello fosse un processo già scritto era già noto a tutti e se non lo fu inizialmente fu chiaro ben presto. E con l'aumentare di questa consapevolezza non mancarono coloro che si posero dalla parte di Giovanna. Alcuni dei giudici, dei vescovi che avevano il ruolo di giudici appunto in quel processo e che avevano iniziato il loro compito in buona fede, quando si regero conto di quanto stava avvenendo, ovvero che tutto quanto era semplicemente atto a condannare a morte Giovanna, decisero di prendere le distanze da quanto stava avvenendo. O si allontanarono o furono costretti a scappare addirittura quando denunciarono apertamente la falsità di quel processo. Per farvi capire a che punto di livello si è raggiunti a un certo punto, persino tra le fila degli inglesi si alzò una voce in difesa di Giovanna, quella della duchessa Anna di Bedford, la moglie del duca di Bedford. E chi era costui? Il duca di Bedford era il reggente dell'allora giovanissimo re Enrico VI d'Inghilterra, che all'epoca era un bambino. E il duca di Bedford era proprio colui che voleva più di tutti che Giovanna morisse, era lui che stava guidando Pier Coscione e tutti gli altri giudici a far condannare a morte Giovanna. Cioè, persino sua moglie, la moglie del duca di Bedford, si alzò in piedi e parlò a gran voce affinché a Giovanna venisse fatto un processo equo. Proprio per farvi capire quanto anche Giovanna fosse capace di farsi voler bene a suo modo, quanto lei fosse in grado di conquistare gli altri. Anzi, fu proprio da parte della duchessa di Bedford che si diramò una richiesta generale, sia da parte di Giovanna che da parte dei suoi difensori, che avrebbe potuto capovolgere le sorti di quel processo, qualora fosse stato un processo legittimo, ovvero che l'intera questione venisse sottoposta direttamente al Papa. In quanto accusata in un processo politico, in un processo religioso, era nel pieno diritto di Giovanna appellarsi al giudizio del Papa, alla quale lei diceva che si sarebbe sottoposta più che volentieri. Ma il partito inglese, con il duca di Bedford e il vescovo Coscione in testa, si opposero fermamente ad una simile evenienza, consapevoli che porsi sotto il giudizio del Papa sarebbe stata un'ancora di salvezza per Giovanna, che di base, pur avendo un pensiero religioso che oggi definiremo leggermente protestante, lei di base riconosceva l'autorità della Chiesa, ma, come ebbe a dire nel processo, Dio andava servito e onorato per primo. In questa frase, va detto, c'era davvero poco di eretico. Solo che stava cercando a forza il pelo nell'uovo per condannarla al rogo, poteva ritenerla una frase eretica. Probabilmente il Papa si sarebbe limitato a darle una piccola lezioncina sul fatto dell'intermediazione tra i fedeli e tra la Chiesa, che doveva essere l'intermediario tra Dio e la fede, però di base non avrebbe avuto alcun motivo per condannare Giovanna come eretica. Ad un certo punto Cifuchi pensò che il processo stesse andando un po' troppo per le lunghe e si decise di tagliare la testa al toro e mettere Giovanna direttamente con l'acqua alla gola, o meglio col fuoco sotto i piedi. Dopo cinque mesi di processo, Giovanna venne condotta nel cimitero di St. Juan, dove era stato allestito un palco su cui Giovanna venne collocata sotto gli occhi degli abitanti di Juan, corsi ad assistere a quello che si credeva l'atto finale di quel processo. A Giovanna vennero riletti tutti i capi d'accusa e le venne ingiunto di abiurare alla sua fede nelle sue voci. In caso contrario sarebbe stata subito bruciata sul rogo. Messa alle strette, Giovanna sembrò bacillare seriamente e in più si aggiunsero le esortazioni dei frati domenicani che la assistevano e la esortavano a firmare la biura per potersi salvare la vita. Addirittura alcuni degli abitanti di Juan iniziarono ad urlare a Giovanna di abiurare, di salvarsi la vita. E lei alla fine cedette, anche se non sappiamo se fosse mossa dalla paura di morire o se in realtà la sua biura non fosse del tutto sincera. Anche perché prima di firmare il documento della biura Giovanna tracciò una croce sul foglio e questo è un elemento interessante perché sappiamo che in passato lei usava vergare una croce sulle lettere ai suoi compagni d'arme come indicazione del fatto che loro non dovevano seguire le indicazioni di quella lettera. Praticamente come una sorta di messaggio cifrato. La croce indicava no, non è vero, non è quello che intendo io. Quindi probabilmente per non peccare di falsità con se stessa e con le sue voci Giovanna firmò la biura non riconoscendone sottilmente la validità. Fatto sta che con quest'atto Giovanna si era salvata in quanto con la biura lei avrebbe dovuto rimanere inca. Allora sì, ma gli inglesi e il vescovo Coshon non avevano alcuna intenzione di permetterle di salvarsi e ricorsero quindi ad un inganno decisamente crudele. Dal momento che Giovanna aveva firmato la sua biura avrebbero dovuto metterla in una prigione della chiesa sorvegliata da donne e invece Coshon la fece rimettere ingiustamente nella prigione in cui era stata rinchiusa per tutto il periodo del processo, ovvero in una prigione inglese dove lei era sorvegliata da uomini che non facevano altro che tormentarla e forse tentavano anche di farle violenza. Fino ad ora lei era riuscita a salvarsi dalle loro aggressioni non solo perché non aveva mai smesso di indossare abiti maschili ma anche perché tecnicamente era sotto la protezione della chiesa ma adesso avendo aviurato avrebbe dovuto riprendere ad indossare abiti femminili ma stando ancora nelle prigioni inglesi senza alcuna protezione da parte della chiesa sarebbe stata indifesa di fronte alle brutalità dei suoi carcerieri e sicuramente era questo che puntarono il duca di Bedford e il vescovo Coshon. L'ultimo atto fu quello di portarle via gli abiti femminili dopo alcuni giorni di prigionia lasciandole di nuovo gli abiti maschili. Giovanna fu praticamente costretta a rinnegare la sua abiura infatti appena indossò nuovamente gli abiti maschili venne riconosciuta come relapsa ovvero come recidiva nelle sue blasfemie e di conseguenza la chiesa si vedeva costretta ad abbandonarla al braccio secolare della giustizia. Si ignorò completamente il fatto che la chiesa per prima non aveva rispettato la legge mettendo Giovanna in una prigione della chiesa sotto la sorveglianza di donne ma come abbiamo già detto non c'era mai stato niente di legale e giusto in quel processo. Persino negli atti finali se ne ebbe la prova quando a Giovanna venne concesso di confessarsi e di ricevere la comunione cosa che non si concedeva mai ai condannati per eresia. Alla fine quello che gli inglesi volevano era la morte di Giovanna e Giovanna dal canto suo voleva solo una cosa la libertà da quel calvario in qualunque forma essa si presentasse. E arriviamo all'atto finale della storia di Giovanna d'Arco, quello più famoso e più rappresentato nelle arti. Giovanna sul palcoscenico del mondo che passa dalla vita terrena alla morte, dalla storia al mito. Nelle intenzioni dei suoi nemici la morte sul rogo sarebbe dovuta essere l'infamia con cui abbattere per sempre l'immagine di Giovanna, la pulsella di Orlean, non una santa guerriera inviata da Dio ma una strega malefica e serva del diavolo. Eppure nel tentativo di abbatterla la innalzarono ancora di più agli occhi del mondo e della storia. Già quel giorno, il 30 maggio del 1431, gli abitanti di Rouen che assistevano alla morte di Giovanna sul rogo se ne resero conto. Erano abituati a vedere le streghe morire sul rogo urlando, bestemmiando, piangendo o invocando pietà. E Giovanna invece, legata al palo, innalzata su un palco di pietra affinché tutti vedessero la sua fine, circondata dal fuoco e dal fumo delle fascine di legna che circondavano il rogo. Ebbene, Giovanna se ne andava via tenendo gli occhi fissi su un crocifisso che un dominicano le teneva davanti agli occhi, invocando a gran voce il nome di Gesù. No, Giovanna non stava morendo come una strega, stava morendo come una santa. Era di nuovo il mese di maggio, come il mese della sua cattura a Compienne, come il mese della sua vittoria a Orléans, come i mesi della sua infanzia passati a giocare, a ballare con le sue amiche attorno all'albero delle fate a Domremy. Giovanna d'Arco morì sul rogo a soli 19 anni e in un solo anno aveva contribuito a cambiare le sorti della Francia. E il suo mito iniziò proprio quel giorno, quando probabilmente in mezzo alla folla di Rouen che assisteva impressionata alla sua morte, iniziò a dire siamo perduti, abbiamo bruciato una santa. La morte di Giovanna non arrestò l'avanzare delle vittorie dei francesi. Quattro anni dopo la sua morte i borgognoni si pacificarono con i francesi e si unirono a loro per liberare la Francia dagli inglesi, cosa che avvenne ufficialmente nel 1453, quando gli inglesi persero tutti i loro domini in Francia, con la sola eccezione del porto di Calais. Due anni dopo, nel 1455, venne indetto un nuovo processo, stavolta veicolato da Carlo VII, per riesaminare il processo che aveva condotto alla morte di Giovanna. In questo processo vennero ascoltati tutti i possibili testimoni a favore di Giovanna, tutti coloro che non avevano potuto parlare al suo primo processo. Tra costoro ci fu anche sua madre, Isabelle Romè, all'epoca quasi ottantenne, che, come ogni madre che cerca giustizia per il proprio figlio, ebbe ancora la forza necessaria per richiedere la riabilitazione per sua figlia. Riabilitazione che avvenne. Giovanna venne riconosciuta innocente e a suo tempo ingiustamente condannata a morte per eresia. Il vescovo Coscion, colui che tanto aveva premuto affinché lei venisse condannata, subì una scomunica post-mortem per eresia, in quanto si era avvalso del manto della religione per scopi ingiusti. In seguito, nel corso dei secoli, Giovanna sarebbe rimasta un simbolo della Francia, ma a un certo punto sarebbe quasi caduta nell'oblio e nel dimenticatoio. Non sarebbero mancati, soprattutto in epoca illuminista, momenti in cui sarebbe stata presa come il modello di una religiosità ignorante e oscurantista, sarebbe stata presa come modello negativo di quella monarchia assoluta contro cui gli illuminismi e la rivoluzione francese si sarebbero battuti. Solo in tempi recenti la sua immagine sarebbe ritornata a splendere di nuova luce e in seguito, con la crescersi del culto della sua immagine, Giovanna d'Arco venne beatificata nel 1909 e canonizzata nel 1920. Oggi è la santa patrona di Francia e la sua eredità morale è ancora viva ai giorni nostri, soprattutto tra le nuove generazioni, che proprio come lei si battono per i loro ideali e per rendere il mondo un posto migliore. in questo non possiamo pensare a figure come Greta Thunberg, che si batte per la salvaguardia del mondo dall'inquinamento, che è stata definita una Giovanna d'Arco del secondo millennio. oppure tanti altri tanti altri tanti altri giovani e ragazzi e ragazze che hanno scelto di che in fascia d'età in cui dovrebbero magari godersi l'adolescenza hanno scelto di battersi per salvare il mondo dall'inquinamento, dallo sfruttamento, o i bambini dalle violenze, dalla guerra, dallo sfruttamento. Ecco, Giovanna d'Arco anche a distanza di cinque secoli e più, ancora non smette di ispirare le nuove generazioni, a non abbassare mai la testa di fronte alle ingiustizie, a correre sempre in difesa dei più deboli, a chi non può difendersi, a dirci che anche se sei a malapena un bambino, anche se sei solo un ragazzino, che non importa se tu hai 14, 15, 16, 17 anni, puoi comunque cambiare il mondo in meglio, anche quando questo mondo rema contro di te e cerca in tutti i modi di condannarti o di bruciarti sul rogo in altri modi. Beh, non penso di poter aggiungere altro, penso di aver detto anche più di quanto avrei voluto dire, certo avrei voluto dire tante altre cose, ma su Giovanna si potrebbero dire tantissime altre cose, io con personaggi sui quali io mi appassiono, come appunto Giovanna d'Arco, io dovrei dedicare non un solo video, ma tantissimi tantissimi video, perché non ci metterei davvero troppo tempo per parlarne ancora e ancora, e devo dire che ho dovuto tagliare purtroppo molti punti, altrimenti avrei fatto durare questo video fin troppo, ma vi dico solo che ci sarebbero tante altre cose da dire su Giovanna, e chissà che magari in futuro io non decida di riprendere più volte in mano la sua figura e tornare a parlare di lei. Scusate, mi sta scendendo la voce per la stanchezza. Allora, per quanto riguarda invece la cultura generale, beh, per quanto riguarda la cultura generale, io vi rimando al mio video, che è stato il primo video della mia rubrica delle videolezioni del professor Lusio, che ho dedicato appunto a Giovanna d'Arco, ai libri a lei dedicati, ai film, eccetera, eccetera. Se volete fare un bel recuperone vi rimando a quel video. Io non penso di poter aggiungere altro a riguardo, posso solo aggiungere magari qualche film che ho recuperato in tempi recenti, come ad esempio La meravigliosa vita di Giovanna d'Arco, fanciulla di Lorena, film muto del francese del 1929 con Simone Genevoire, che interpreta una Giovanna d'Arco bellissima, che sembra uscita da un quadro proprio, veramente. Io, si trova anche qui su YouTube in maniera completa, dura due ore, però ragazzi è bellissimo, è veramente fatto bene, se masticate un po' di francese, ma anche se non lo masticate, è accessibilissimo il film. Io ve lo consiglio caldamente, almeno giusto per vedere qualche scena, giusto per vedere l'effetto che fa Simone Genevoire nei panni di Giovanna d'Arco, che guardate è impressionante, sembra quasi di vedere proprio Giovanna d'Arco viva, di persona. E poi con un'intensità, lei ha un'intensità dello sguardo che ti fa piangere. Io ve lo consiglio, ve lo lascio linkato sempre qua nel pallino magico, sperando che ci entrano tutti i video che vi ho elencato, speriamo, vediamo un poco, speriamo. Allora, quindi io ve lo consiglio molto come film. E in più, grandi recuperoni dell'ultimo tempo, due film recenti del regista francese Bruno Dumont, che alla figura di Giovanna ha dedicato due film. Uno nel 2017, Jeannette, l'enfance de Jean d'Arc, e uno del 2019, che si intitola semplicemente Jeanne. In questi film che riprendono il testo di Charles Pégui, Il mistero della carità di Giovanna d'Arco, un testo teatrale del 1910, una sorta di oratorio civile, ecco, Charles Pégui affida l'interpretazione di Giovanna d'Arco a un'attrice giovanissima, Lise Leplante, che ha circa 13 anni, proprio a restituirci un'immagine di una Giovanna d'Arco, bambina non molto distante dalla realtà. È un film che purtroppo qui in Italia non è arrivato, io l'ho recuperato in francese e, vabbè, io me la cavo abbastanza col francese. Io ve lo consiglio, perché è molto bello, però, come vi ho detto, essendo tratto da un testo teatrale, che è più che un testo teatrale, è proprio un oratorio civile, è abbastanza pesante. È un lavoro molto autoriale, si basa molto sui ambienti, che sono molto belli, sulle interpretazioni degli attori, anche sulla musica e sul canto. È un bel esperimento registico e cinematografico, come solo il cinema francese, secondo me, sa ancora fare. Ve lo consiglio, se siete appassionati di cinema, vi avviso però che è abbastanza pesantuccio, non sono facili da assimilare come pellicola. Però va visto anche solo per l'interpretazione di Lise Leplatte-Priudhomme, che, come ho detto, ragazzi, è giovanissima, ha 13-14 anni, è un'attrice bambina, e ci restituisce una Giovanna d'Arco bambina, che, anche se magari è distante dalla Giovanna d'Arco storica, è molto precisa nell'immagine più simbolica, che si dà al giorno d'oggi anche a Giovanna d'Arco, di come di una santa fanciulla, una santa bambina guerriera. Bene, ragazzi, io non penso di poter dire altro. Se volete poi, direttamente, nell'immediato, qualche indicazione bibliografica, io torno a consigliarvi la bellissima opera di Michelangelo Rossato, Il cuore di Giovanna d'Arco, che è un'opera bellissima, davvero, veramente, non ve la potete perdere. E come testi biografici, Giovanna d'Arco, La vergine guerriera, di Franco Cardini, e Giovanna d'Arco, di Giovanni Boiolo. Proprio le biografie più attente, secondo me. Poi, in tempi recenti, è stata pubblicata anche un'opera che io devo ancora leggere, ma che devo recuperare subito, che è stata pubblicata da Il Saggiatore, proprio qualche tempo fa, a un bel prezzo, sono circa 30 euro pieni, che è... Aspettate che c'è un attimo il titolo. Ecco qua. Ecco qua. Sì. Giovanna d'Arco, una biografia di Colette Bone. Vabbè, vi lascio sempre i link in descrizione. Edito da Il Saggiatore, secondo me ha un bel prezzo. Io, infatti, ancora per questo non l'ho ancora acquistato, perché costa tantissimo. Però, secondo me, è da leggere, perché penso sia una delle biografie più complete in assoluto, vista anche la sua mole, visto anche lo studio dell'autrice, Colette Bone, che non è nuova, ha testi su Giovanna d'Arco. Penso che questo sia il suo terzo scritto su Giovanna, però è il primo che viene tradotto in italiano. Io finora di lei ho recuperato una breve biografia più in francese. E nient'altro. Io per il resto, per il restante apparato bibliografico, vi rimando sempre al video che vi ho già lasciato nell'info box. Nel pallino magico, voglio dire. E io... Non penso di poter aggiungere altro. Scusatemi. La voce mi sta completamente abbandonando. Abbiate pazienza. Devo prendere l'abitudine a tenermi un bicchiere d'acqua qui, perché veramente, a parlare ininterrottamente, non è facile. C'ho anche un po' di capogiri ogni tanto. Quindi, io quindi concludo qua il video e spero di cuore che vi sia piaciuto, ragazzi. Spero davvero che vi sia piaciuto, anche perché Giovanna d'Arco è una figura alla quale sono molto affezionato e spero davvero di essere riuscito a esprimere al meglio la sua essenza e la sua vita. E a questo riguardo, lasciatemi un like se vi è piaciuto e lasciatemi tanti commenti. Ditemi voi la vostra su cosa ne pensate di Giovanna d'Arco e se vi è piaciuto il modo in cui io ve l'ho raccontata. Iscrivetevi al mio canale per rimanere aggiornati sui miei prossimi video. Mettete mi piace alla mia pagina Facebook, seguitemi anche su Instagram sempre se volete e noi ci vediamo al prossimo video che spero, spero prima di tutto che non tardi troppo, però ve l'ho detto sto abbastanza impicciato con il lavoro che dovrebbe iniziare a giorni e sto scrivendo ininterrottamente e con la prossima video lezione che sarà dedicata sempre al mondo di Giovanna d'Arco e affronterà un mistero non tanto recente ma molto interessante, ovvero Giovanna d'Arco è per caso sopravvissuta al rogo? Intanto che preparo il video anche per questa prossima video lezione vi lascio con questo dubbio, interrogatemi un poco, vi ho lanciato la bomba sperando di vedervi a correre qui quando arriverà la seconda parte di questa video lezione. Bene, dal vostro professor Lusio è tutto, ci vediamo e alla prossima e ciao!